Torna l'appuntamento col Gusso a Valtopina per la 37esima Mostra Mercato del Tartufo, in programma come da tradizione negli ultimi due weekend di novembre, sabato 18 e domenica 19, sabato 25 e domenica 26. Al centro della festa è il pregiato fungo, che si potrà trovare negli stand del mercato o a impreziosi ripiatti della proposta culinaria. Accanto a lui prodotti locali, umbri, italiani e anche stranieri. Per il secondo anno si rinnova l'appuntamento con Valtopina Gusto e Degusta, partenariato pubblico-privato promosso dal comune a cui hanno aderito otto aziende del territorio per la promozione dei prodotti di filiera corta. Non mancheranno poi la borsa del cane da tartufo, la gara nazionale ricerca per cane da tartufo, passeggiate tra i castelli, raduni auto e bici, spettacoli, approfondimenti e attività per bambini. Grazie. 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 Grazie.